Controlla le armi energetiche per dominare la squadra nemica. Ho superiutanti, hanno colpito, ho superiore, hanno sparato alla testa, attenzione! Abbiamo il fucile di precisione. Hai perso il comando. Ho la spada! Hai perso il comando. Il compagno a terra nella base blu. Gitarra aiuto! Gitarra aiuto! Gitarra aiuto! Gitarra aiuto! Lamentare aiuto! Gitarra aiuto! Gitarra aiuto! Gitarra aiuto! sei in vantaggio un po' di carico, sono a posto lancio una granata passione rossa, ce n'è uno ehi, dacci un taglio, sparta attacca Brin fuoco nemico, passarella superiore piattaforma armi fra 30 secondi armi potenti fra 30 secondi mi ho distrutti 10 secondi alla piattaforma armi armi potenti fra 10 secondi la piattaforma armi è pronta le armi potenti sono pronte mi hanno costituito attenzione rossa guarda aiuto sono sottotiro nella base blu flame energetica fra 30 secondi a metà dell'opera ho raccolto la spada un vecchio un po' alla testa mi hanno preso 10 secondi alla nave energetica abbiamo ucciso nella pincea la spada è qui la nave energetica è nostra un po' alla testa un BNR abbiamo perso il cuore nella pincea un BNR compagno di squadra non sparare uno è andato grazie per l'aiuto ottimo lavoro uccisioni per vincere piattaforma armi 30 secondi piattaforma armi 10 secondi armi potenti fra 10 secondi ottimo lavoro di squadra la piattaforma armi è pronta le armi potenti sono pronte uccide di precisione distrazione fine partita vittoria attrazione 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 attrazione